guardate come posso fare piano, il mio dinosauro sta dormendo dormi, dormi piccolino oh, meno male, dorme che vuole venire con me? Stephen, attento mettiti il casco per favore aspetta Stephen, hai sentito quello che ha detto Maria? ok, va bene tieni così non ti farai male oh Stephen, ti sei fatto male sono a posto, mi sono messo il casco mi sa che io non sono a posto Barbie, ti senti male? chiamiamo il dottore no, prima chiama Teresa perché non possiamo lasciare i bambini così ciao Teresa, potresti venire un attimo all'asilo? sì, sì, Barbie si sente male ok Teresa verrà tra poco, io nel frattempo chiamo l'ambulanza buongiorno, sì, vi aspettiamo all'asilo Barbie si sente male, sì arrivederci, grazie Barbie, che hai? che succede? potresti rimanere qui con i bambini noi andiamo dal dottore oh, sta arrivando l'ambulanza ragazzi, andiamo a mangiare tranquilla Barbie, i bambini sono a posto e io vengo con te ah, ecco l'ambulanza Barbie, tranquilla, ci vediamo all'ospedale oh, sta arrivando qualcuno oh, anch'io sono qua buongiorno Barbie, come stai? vieni qui, ti aiuterò facciamola sedere qui sediti qui Barbie tranquilla, tranquilla, vieni qui e adesso mettiti qui così oh, mi sa che stai partorendo Barbie oh, davvero? stai tranquilla Maria, tutto andrà benissimo ancora un po' tranquilla, tranquilla, respira, respira Barbie Maria, portami un pannolino per favore sì, sì, un attimo questo qua? sì, va benissimo avete sentito? è un bambino congratulazioni Barbie, è un maschio oh, vieni qua piccolo laviamolo così quanto sei bello vieni qui bellino Barbie, vuoi vedere il tuo figlio? sì tienilo amore quanto sei bello amore allora il bambino 58 centini il peso vorrei dire a Teresa e ai bambini che è nato il mio figlio sì chiamiamo Teresa pronto? Teresa? ciao, ti faccio vedere Barbie ciao Teresa guarda, è il mio figlio ciao Teresa ciao Barbie congratulazioni ciao Barbie ciao piccolino tutti sono così felici ciao ragazzi che devo dare da mangiare al bambino ciao e anche con voi ragazzi ci vediamo molto presto ciao ciao allora ti chiamerò ti chiamerò bro non lo so ciao 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 ciao